Si è da poco aperta la fiera dell'agricoltura di Teramo, giunta la sua 22esima edizione, una fiera rinnovata, nuovo slancio, grandi numeri, 15.000 metri quadri nel parcheggio esterno allo stadio comunale di Piano Daccio, 120 espositori, anche tanto pubblico per il taglio del lastro da parte delle istituzioni. Stanno in una location diversa ma soprattutto tanto più spazi, tanti più stand, tanti più imprenditori agricoli presenti e anche con qualche angolo di particolare interesse come quello della campagna aperta, quindi molti animali che forse i bimbi non hanno mai visto e soprattutto credo che sia interessante quell'accordo che è stato portato avanti con l'INEL su cui stiamo lavorando anche noi perché quando parliamo di morti bianche, di incidenti sul lavoro, molti non dicono che purtroppo è l'agricoltura ad avere questo triste primato, quindi un accordo importante che come regione vogliamo seguire. Noi ci abbiamo creduto all'inizio, ritengo che sia stato fatto un ottimo lavoro, il tempo è una bella giornata quindi se lo sarà anche nel fine settimana sarà di buon auspicio sicuramente per una buona riuscita. Noi piano piano per gradi senza presunzione vorremmo diventare un attimino più attrattivi nel territorio non solo dell'ambito provinciale arrivando insomma anche ad attrarre delle persone di fuori regione, speriamo, ci lavoreremo. Dobbiamo lavorare sui prodotti di qualità perché solo con i prodotti di qualità riusciamo a dare un reddito al mondo agricolo e su questo c'è uno sforzo comune, io veramente faccio i complimenti al comune di Termo, all'assessorato perché con queste manifestazioni io credo che si possa dare importanti risposte. Grazie a tutti.